Si è aperta con una serata di presentazione delle politiche in Valtrompia di protezione delle donne, la rassegna Voce alle donne 2022, proposta dalla Consulta per le pari opportunità della comunità montana di Valtrompia per il mese di novembre, realizzata grazie ai comuni di Bovegno, Marmentino, Marcheno, Irma, Lodrino, Pezzase e Tavernole. Nella serata tenutasi al Museo del Forno Fusorio di Tavernole sul Mella sono state illustrate le politiche regionali e territoriali sul delicato tema, mentre sono intervenute a portare il loro contributo alcune operatrici del Centro Antiviolenza dell'Associazione Casa delle Donne CAD di Brescia, interventi significativi anche da parte delle operatrici dell'Istituto delle Suore delle Poverelle Palazzolo Brescia. La rassegna Voce alle donne proseguirà per tutto il mese di novembre con una serie di manifestazioni dedicate nei centri di Gardone Valtrompia, Marcheno, Bovezzo, Villa Carcina, Brione, Colle Beato, Concesio, Lodrino, Sarezzo, Caino e Lumezzane, compresa quella del 27 novembre con la fiaccolata lungo le strade della Valtrompia.